fai povero gabbiano ok mi fa piacere che dopo tredici anni gianni celeste torni a infiammare i nostri cuori Questa canzone è arte Visto che stiamo parlando di un brano neomelodico quindi una quantità inutile di note aggiunte alla canzone devo ascoltarla almeno 44 volte per poterla capire Cioè è bellissimo non so cosa dire in realtà si capisce subito che siamo in do minore perché Proprio per forza e quindi dopo sarà fa minore Sì ok è abbastanza standard Però stiamo facendo un brano neomelodico quindi non possiamo permetterci di non aggiungere trilli che non c'entrano niente Per forza Cosa vi devo dire è arte pura Cosa vi scalpare Chiusi Posa va Sì Sì Grazie a tutti.